La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni pari ad 1,7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di eboli per il reato di omessa presentazione della dichiarazione. Le attività investigative svolte dai finanzieri di eboli sono scaturite da una verifica fiscale condotta nei confronti di un'impresa operante nel settore del commercio al dettaglio di apparecchi audio e video ed hanno portato a rilevare l'omessa presentazione delle dichiarazioni previste ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. In particolare è stato accertato che il titolare dell'attività commerciale ha omesso di versare negli anni di imposta 2013 e 2014 imposte dirette per oltre 960 mila euro e l'IVA per più di 730 mila euro. Al termine dell'intervento sono stati sottoposti a sequestro fabbricati, terreni, disponibilità finanziarie, quote societarie e partecipazioni in altre società per un valore complessivo di oltre un milione di euro.